Ciao qui è Joe di Seduzione Attrazione e nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci avete inviato. La domanda è, vive una città visitata da tantissime turiste straniere, per approcciarle se durle devo necessariamente saper parlare la loro lingua o ci sono altri modi? Allora, potenzialmente, ma questo è un caso francamente molto raro, è possibile usare Google Translator, ma se qualcuno di voi l'ha usato sa che francamente le traduzioni lasciano il tempo che trovano, nel senso che ovviamente è un vocabolario che traduce parola per parola e quindi è francamente molto scomodo. Io ci ho fatto sesso con due ragazze straniere usando Google Translator, ma sono casi rari, cioè non sono certo la regola, quindi sì, devi imparare a parlare inglese, ponendo che i ragazzi parlino inglese, ma comunque l'inglese è la lingua che ti dà la maggior chance di riuscire a entrare in comunicazione con loro, e poi dopo l'inglese la mia seconda scelta, se hai tempo, voglia e quant'altro, sarebbe lo spagnolo, perché ovviamente ti apre tutto un mentaglio di paesi, per così dire, tutto Sud America, Spagna e compagnia cantante. Detto questo, sarebbero interessanti le lingue dell'est, ma essendo che ogni paese fondamentalmente ha una lingua diversa, ammesso che tu non diventi un poliglotta, o meglio, a meno che tu non diventi un poliglotta, è francamente impossibile e non ne vale la pena, anche perché in questi paesi bene o male l'inglese lo parlano e quindi te la puoi sempre arrabattare in qualche modo. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro, e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.